Mentre Strada dei Parchi sarebbe pronta ad avviare le procedure per il recesso e la cessazione anticipata della concessione dell'autostrada 24-25, i sindaci di Lazio e Abruzzo sono pronti a nuove proteste. Secondo quanto trapelato, Strada dei Parchi avrebbe scritto ai ministeri delle infrastrutture e dell'economia per avviare le procedure. La società di Toto avrebbe anche chiesto allo Stato un indennizzo di circa 2,3 miliardi per la risoluzione anticipata del contratto, la cui scadenza naturale era fissata invece per il 2030. Una decisione che sarebbe maturata dopo la bocciatura dell'ennesimo piano economico e finanziario, il PEF, ci sarebbero dei margini per trattare però avrebbe fatto capire Toto, partita finita, tutto da vedere. La decisione del ministro Giovannini di congelare sino al 31 dicembre gli aumenti delle tariffe autostradali non ha però placato gli animi. Venerdì è in programma una nuova riunione al comune di Carzoli convocata dal sindaco Belia Nazzarro per definire le prossime mosse. In sostanza i sindaci chiedono certezze, vogliono un nuovo incontro a Roma perché in questi sei mesi di congelamento delle tariffe chiedono una soluzione ma che sia definitiva. Gli aumenti delle tariffe sarebbero dovuti scattare salvo approvazione del PEF il primo luglio ma il ministro come si sa ha bloccato tutto rimandando al 31 dicembre come si diceva. I sindaci temono però che non si arrivi a trovare una soluzione neanche per fine anno. La questione è stata posta anche al governo centrale tramite i parlamentari più volte e non mancano neanche le bordate tra partiti sulla questione. Fratelli d'Italia a livello locale ha annunciato la presentazione alla Camera da parte dei loro colleghi di partito di un ordine del giorno per chiedere l'esenzione del pedaggio per i cittadini dei 113 comuni interessati, fatto che ha provocato scintille con il Movimento 5 Stelle.